Ragazzi, io, potente a pala, ragazzi, qua ho Axel, oggi, porca, siamo qui a presentarvi, mentre i miei dormono, io sono appena tornato, è abbastanza tardone, non sono i tuoi, questo pack opening, magari voi non mi state neanche sentendo, ma sono usciti i pacchetti da 100k, un toti, lo dobbiamo trovare, quindi, primo pacchetto da 100k. Ti prego, ti prego, gli occhi, ti scongiuro, un toti, un toti, un toti, Schweinsteiger, fangudo, è da tre anni nei toti, Schweinsteiger, quest'anno non c'è, io lo trovo, non c'è, uniforme, fangudo, Però forse ci abbiamo guadagnato, perché abbiamo Amestro Trighez, che costa 20k, poi abbiamo Quadrado, poi abbiamo Bastian, ti prego, 50k, ti prego, 30k. Oddio, ci abbiamo perso, andiamo avanti, dai, ne abbiamo ancora uno, ragazzi, ne abbiamo ancora uno, affermativo, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, mi chiediamo gli occhi, mi chiediamo gli occhi. I miei 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 volete se volete che ve ne faccia altri tre 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 vedete un bel mi piace e se questo video arriva a 3.000 mi piace oggi ve ne carico un altro dove ne apro altri due spero che vi sia piaciuto anche se non abbiamo trovato nulla è tipo intrattenimento zero perché non posso neanche parlare e quindi dentro questo io vi saluto e vi dico volete a parlare nel prossimo video ciao a tutti ciao ciao